Oggi con questo episodio voglio mettere insieme due argomenti che mi piacciono tantissimo, che piacciono tantissimo anche a voi, che sono i libri e l'intelligenza artificiale. Ecco a voi 5 libri da leggere sull'EI. Io sono Raffaele Gaito e ti do il benvenuto. Oltre 15 anni di esperienza come imprenditore nel digitale, qui sopra aiuto le aziende e le persone a far crescere il loro business e il loro mindset. Se ti interessano questi argomenti, seguimi su YouTube e su Instagram per altri contenuti. Piccola premessa prima di tuffarci nella lista di libri. Ci sono miliardi di libri sul tema dell'intelligenza artificiale, anche con roba super tecnica in circolazione. Questa non è una lista per tecnici, ho cercato di scegliere della roba che fosse abbastanza a entry level, anche perché maggiormente molte persone si approcciano per la prima volta a questo argomento. Ad ogni modo, se avete fatto delle belle letture sul tema dell'EI e non sono in questo episodio, lasciatelo qui sotto nei commenti perché fa sempre comodo avere un po' di consigli. Il primo libro che vi consiglio oggi si chiama Zero to AI di Gianluca Mauro. Il libro è scritto da un italiano, ma è disponibile solo in inglese perché Gianluca vive e lavora all'estero da diversi anni. Però non vi preoccupate perché tutti gli altri quattro libri sono disponibili anche in lingua italiana. Il sottotitolo di questo libro è bellissimo perché è guida non tecnica e senza hype per prosperare nell'era dell'EI. E infatti la cosa che io ho apprezzato di più di questo libro è proprio il fatto che è un libro non tecnico. E quindi, come ho detto anche all'inizio o nell'introduzione, se vi state avvicinando all'argomento intelligenza artificiale e volete capire proprio come funziona questo mondo, cosa c'è dietro e come può aiutarvi concretamente nel vostro business, nella vostra azienda, nel vostro progetto, questo è sicuramente il libro da cui partire. Inizia con una bellissima storia proprio dell'intelligenza artificiale per poi passare ad una serie di proprio casi studio molto pratici di aziende che grazie all'uso dell'EI hanno risolto questo problema, velocizzato un processo, ridotto dei costi, eccetera, eccetera. Quindi molto molto pratico, veramente molto molto bello. Tra l'altro vi segnalo che ho intervistato Gianluca qualche tempo fa sul mio podcast in inglese Growth Talks ed è uscita un'intervista fantastica che vi consiglio di recuperare, la faccio vedere anche qui. Tra l'altro se non lo conoscete dovete seguire il mio podcast su YouTube o su Spotify Growth Talks. Il secondo libro che vi consiglio invece si chiama Fare Marketing con le AI. È un libro scritto da un italiano in lingua italiana, così vi fermo subito. Già vi vedevo qui sotto a commentare che volevate i libri in italiano. Si chiama Fare Marketing con le AI. È stato scritto da Guido Di Fraia, che è un docente all'Università Yulm a Milano e soprattutto è il capo del laboratorio Yulm AI Lab, che è il laboratorio di ricerca avanzata dell'Università Yulm di Milano, appunto sul tema dell'intelligenza artificiale. E come dice il titolo, come avrete intuito, questo libro si concentra soprattutto sulla parte di marketing, mentre il primo era un po' più sulla parte business, no? Quindi come l'intelligenza artificiale può aiutarvi a ottimizzare processi, velocizzare, ridurre costi, eccetera, eccetera. Qui è molto più sul come comunicare meglio, come vendere di più, come automatizzare certi passaggi, eccetera, eccetera. Quindi un libro che parla di funnel, che parla di ciclo di vita, che parla di tool, eccetera, eccetera. Se vi interessa più la parte marketing, allora questa è sicuramente una bella letturina da fare. Anche il terzo libro della lista è di un'autrice italiana, fino ad ora sono tutti autori e autrici italiane, se siete contenti di questa scelta, si tratta di Il Confine del Futuro, scritto da Francesca Rossi. Il libro ha qualche annetto, ma secondo me è comunque interessante. L'autrice lavora al centro di ricerca di IBM a New York e racconta un pochino, se volete, le sfide di chi si trova appunto a fare ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale in questa epoca storica. Quindi non solo dal punto di vista tecnologico, no? Della tecnologia che c'è dietro a queste AI, ma anche di poi come effettivamente sono gli impatti, possono avere l'intelligenza artificiale sulla nostra vita, sui nostri lavori, i benefici che possono portare, le sfide che ci attendono e così via. Si parla di principi etici, si parla di valori morali, si parla di bias, di problemi, eccetera, eccetera. Ve lo straconsiglio e vi ricordo che tutti i link sono qui sotto in descrizione di tutti i libri che sto citando. Il quarto ha un titolo semplicissimo perché si chiama L'intelligenza artificiale ed è stata scritta da Melanie Mitchell, spero di aver pronunciato bene il nome dell'autrice. Lei è un'informatica, una scienziata, lavora per il Santa Fe Institute e si occupa ad anni di sistemi complessi, di algoritmi generici, di temi estremamente tecnici. E anche questo libro, come un po' diciamo tutti quelli del settore AI, poi lo scoprirete quando ne leggerete qualcuno, parte con la classica storia, no? Introduzione, come siamo arrivati a oggi, da dove parte l'AI, quali sono state le varie fasi, eccetera, eccetera. Questo libro si conoscendo in particolare un po' sul dietro le quinte degli algoritmi di machine learning, spiega i problemi di bias che ci sono con i dati, secondo me tocca delle tematiche estremamente affascinanti, da questo punto di vista anche parlando di eventuali problematiche serie che stiamo per affrontare. E poi c'è tutta una parte dove fa capire che l'intelligenza generica, l'intelligenza forte, viene chiamata in molti modi la AG, secondo lei è ancora lontanissima, non dobbiamo ancora preoccuparci di questa cosa, al momento non è assolutamente fattibile come cosa. E questo ci porta invece al quinto libro, si chiama Superintelligenza di Nick Bostrom, e questo è probabilmente il più famoso dei cinque che si trovano all'interno di questa lista, che è molto diverso dai precedenti perché è l'unico libro di questa lista che ha una visione estremamente pessimista, o serie di quasi catastrofista dell'intelligenza artificiale. Secondo Bostrom il futuro non è per niente rosa e fiori, lui crede che siamo molto vicini all'AG, quindi a questa AI generale, AI forte, viene chiamata in molti modi, e quindi secondo lui siamo abbastanza fottuti, la fine del mondo è dietro l'angolo. Il libro secondo me rasenta quasi la fantascienza in alcuni passaggi, anche se non è un romanzo, però io che sono un ottimista, comunque consiglio sempre di ascoltare tutti e due i lati della campana, e quindi di leggere anche dei libri che non siano tutti, no, scritti da tecno entusiasti, ma anche da qualcuno che ogni tanto ci fa, come dire, ci faccia una lampadina, ci dà un'opinione diversa, ci fa riflettere un pochino su quello che sta succedendo. Quindi se volete leggere qualcosa dove le AI sta per prendere il controllo del mondo, e sta per ucciderci tutti, Superintelligenza parla esattamente di questa. Anzi, se avete un po' di timori sull'intelligenza artificiale, magari soprattutto legate ai temi del lavoro, che sono quelli che sicuramente vi interessano di più se mi seguite da queste parti, vi consiglio assolutamente di vedere il video sul mio canale YouTube, dove vi dico perché secondo me l'intelligenza artificiale non ci ruberà il lavoro.